Oggi la direzione nazionale per parlare anche di legge elettorale, quali sono i punti cardine su cui si può ritrovare il PD? Il PD ha avanzato qua una proposta che deve essere definita nell'articolato, come noto, del doppio turno con un recupero proporzionale e il diritto di tribuna che vuol dire che nessuna forza politica che partecipa alle elezioni al di sopra di una certa soglia sarà esclusa comunque da una rappresentanza, come si dice, di tribuna. I gruppi parlamentari nei prossimi giorni cercheranno di definire, di trasformare questi principi in articolato e soprattutto assumeranno quelle iniziative di collegamento con i partiti alleandi del PD perché auspicabilmente questa nostra iniziativa dovrebbe avere il consenso di tutte le forze del centro-sinistra. Il problema è quello di rendere credibile l'iniziativa, il problema è quello di far sì che gli elettori non dubitino che noi abbiamo fatto una finta e quindi bisogna accompagnarla da un impegno preciso a pretendere la calendarizzazione in aula. Un impegno preciso con tutti i mezzi che i regolamenti delle due assemblee ci consentono per pretendere che il tema venga messo all'ordine del giorno dell'aula parlamentare. Altrimenti è uno dei tanti progetti come ce ne sono già altri in Parlamento e la gente dice fate finta perché vi va bene questa legge invece non ci va bene, non ci è andata bene quando è nata che l'abbiamo contrastata con tutta la forza e con ogni mezzo e ci va ancora meno bene oggi che abbiamo visto nell'esperienza e soprattutto abbiamo visto come gli elettori non siano più disposti a sopportare che i loro rappresentanti siano cooptati, siano nominati dall'altro e non siano eletti da loro. Questa è una vergogna e anche per noi parlamentari sentiamo addosso il peso di una mancanza di legittimazione popolare. Rappresentiamo chi se non siamo stati eletti? Allora bisogna superare questa vergogna del porcello. Per questo motivo si stava pensando a un referendum? Sì, referendum non tanto perché il referendum possa risolvere in sé un problema complicato ma come miccia verso il Parlamento per indurlo a decidere perché è sempre uno strumento estremo il referendum, è lo strumento che i cittadini hanno a disposizione di fronte all'inerzia del Parlamento, però se Versani conferma gli impegni a una battaglia parlamentare finalizzata a pretendere la messa in agenda del tema il problema si risolve in questo modo.